Bella vecchi travali, siamo i Granas e bentornati qui sul nostro canale E questo oggi è un video speciale perché è il video, diciamo, un vlog dove noi esprimiamo i nostri sentimenti Le nostre felicità per il raggiungimento dei 100.000 iscritti Grazie, non è molto bello fare questo video con il singhiozzo Perché, lo sai ragazzi, lo devi fare, devi tipo bere i sorsi d'acqua Lo so, amore, a me va Comunque siamo qui per ringraziarvi per l'aggiungimento di un traguardo stupendo Forse è il più bel traguardo che si possa aggiungere su YouTube Ma in realtà è così perché per noi lo vediamo 100.000 e... Cazzo, non riesco a parlare Vabbè, comunque sì, vi ringraziamo È stato veramente fantastico, cioè abbiamo aspettato tutta la notte che arrivassimo a 100.000 Perché tipo, verso le 11 di sera stavamo a 99.980 qualcosa Quindi... Ciao Se sono fatte le due per questi 100.000 iscritti E siamo stati veramente molto contenti Cioè, penso che sia veramente il più importante E il più bello Cioè, poi quello che ti ricordi di più Mi ricordo quando sono arrivato a 100.000 E uno dice, poi vabbè, se arriva il milione è normale Però, comunque, 100.000, il bottoncino Che non avremo mai, probabilmente Però... Bello, bello, molto bello E quindi, ragazzi, comunque Vogliamo ringraziare tutti voi perché... Ma, mentre se può sentire parlare, giuro Vogliamo ringraziare tutti Perché, sembra banale dirlo, ma è così È grazie a voi che siamo a 100.000 iscritti Dai, ma questa è una cosa seria Don me l'acqua Perché abbiamo fatto, appunto, i dovuti ringraziamenti I diritti Che comunque vanno fatti Perché siete fantastici Fantastici Capito Dovete dire Niente, che dovete dire Vi vogliamo dire che, comunque, il video di 100.000 Non è questo il video Non è questo qua Ma sarà una cosa speciale che faremo E che poi vi diremo Perché stiamo tentando di organizzarla Esatto Ovviamente con quelli di Roma E con chi vuole venire a Roma Perché, comunque, siamo di Roma Quindi lo facciamo qua Siete, ovviamente, tutti invitati Tutti a 100.000 Non vi preoccupate Quindi, ragazzi, adesso la famiglia si allarga Perché, ovviamente, c'è uno zero in più Ci siamo tante persone in più Che ci seguono Voi, però, vi ricordiamo Però, ricorderemo sempre Però, non me ne frega un cazzo Sempre di più Oltre che a quel singolo Sono anche dislessico No, anche a quel singolo Cioè, paura che ti viene Quindi non riesci concentrato su quello che devi E quindi, ragazzi Noi, approfittiamo questo breve vlog Per ricordarvi Sì E' andato così, ormai E' andato così Non mi è mai preso così tanto il singhiozzo Però Giuro che lo sto apposta Eeeh Per ricordarvi che abbiamo dei profili social Allora, questo Ci dovete Su Instagram Con il hashtag singhiozzo Eeeh Dovete fare lo screen di questo Dei momenti più belli In cui ho avuto un singhiozzo E mi dovete taggare con l'hashtag singhiozzo Ok? Dobbiamo ripienare Instagram di questo hashtag Girls Ashtag 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 Vabbè, allora Penso che il video può finire qua Perché se no Non muore lui E quindi passate nello sito Social Passate nello sito Social Instagram Facate da Facebook Vi ringraziamo ancora Anche lui E vi ricordiamo che questa maglietta Che io sto portando Sarà per il conibiraromi E lui Ve lo presento Lui è singhiozzo Il nostro nuovo mascotte Eeeh Questa maglietta Che sto portando La potete trovare Lo stedaro Pizzare il prezzo Di 20 euro Lo devo dire tutto In seguito Perché sto Tanto che sto Per il ringhiozzo Eccolo Quindi niente Lasciate un like Grazie ancora Siete fantastici E ci vediamo Nel prossimo video Bella Bella